eccoci qua buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi in questo webinar gratuito che facciamo ogni primo mercoledì del mese in cui vediamo insieme un po le novità che stanno arrivando o che sono già arrivate su microsoft 365 io sono giuseppe vi ricordo che il webinar è dal vivo e quindi potete fare qualsiasi domanda dal vivo io vi rispondo a tutto è un momento anche per vedere insieme un po quali sono i vostri dubbi se vedete cose nuove magari avete domande possiamo rispondere a tutto quanto poi se non so qualcosa vi rispondo comunque nei commenti post live in qualsiasi area siete se siete su linkedin se siete su facebook siete su twitter o in tutti gli altri social in cui stiamo trasmettendo trovate appunto potete fare le domande nei commenti oppure se siete sul nostro sito c'è un'iconcina in alto a destra in alto a sinistra adesso non mi ricordo bene in cui dovete potete aprire la chat per fare le domande ok non è proprio nei commenti sotto non è super immediato e quindi ve lo volevo un po ricordare ok bene oggi è una super giornata perché parliamo di un argomento molto hot in questo periodo che riguarda microsoft 365 copilot quindi l'utilizzo delle ai all'interno dell'azienda per la nostra produttività quotidiana oggi volevo vedere insieme a voi un po che cos'è copilot visto che è stato lanciato in general availability lasciatemi usare le le diciamo le come si dice le adesso mi viene la parola va bene le le virgolette perché sì è vero che in general availability però ci sono un po di limiti un po di restrizioni per acquistarlo eccetera eccetera e oggi vediamo tutto quanto oltre a queste cose vedremo i requirement tecnici vedremo anche un po le nuove funzionalità che microsoft ci ha fatto vedere per copilot così che siamo il più preparati possibili al suo arrivo in azienda copilot di fatto è una novità dirompente per la produttività di tutti i giorni io l'ho visto lavorare e in effetti conoscendo anche la tecnologia che c'è sotto questi large language model che vengono dalla partnership che microsoft ha fatto con open ai so bene diciamo le potenzialità che ha questo strumento nella nostra vita lavorativa quotidiana ok e detto questo quindi passerei al punto all'argomento principale di oggi che appunto è microsoft 365 copilot fammi aprire le slide perché ho fatto qualche slide oggi un po le ho prese da microsoft un po ci ho aggiunto un po di contenuti miei che vengono insomma dalle informazioni che microsoft ha dato a noi partner ok e benissimo allora microsoft copilot come vi dicevo è live dal primo di novembre live vuol dire che potenzialmente è acquistabile ok vedremo poi in che in che modalità va bene fondamentalmente copilot che cosa fa fa mette insieme diciamo un po di tecnologie che ci sono già in microsoft e che sono state importate appunto da questa partnership che microsoft ha fatto con open ai open ai è l'azienda di charge pt giusto per intenderci e queste tecnologie le vedete scritte qua e fondamentalmente ci permette con il nostro linguaggio naturale quindi scrivendo delle domande scrivendo delle azioni di recuperare dei dati da microsoft 365 oppure fare delle azioni negli strumenti di microsoft 365 nelle applicazioni di office o anche recuperando informazioni dal web ok tutto utilizzando le nostre parole immaginiamoci quindi il chat gpt di turno che però viene applicato ai documenti word su cui lavoriamo tutti i giorni oppure alle presentazioni powerpoint oppure ai meeting che che facciamo e fondamentalmente copilot vabbè perché è bello oltre al fatto che vabbè è super dirompente perché se io scrivo fammi un draft di un documento basato sulla tal presentazione lui me la fa che è una roba allucinante è bello perché ci permette di applicare una branca della intelligenza artificiale cioè le ai generativa però in un contesto aziendale un contesto in cui la sicurezza è messa al primo posto dove i dati che vengono dati in pasto a questi linguaggi a questi modelli di intelligenza artificiale rimangono nel mio contesto di sicurezza non vengono utilizzati per fare il training dei dell'intelligenza artificiale problemi che adesso a open ai per le sue funzionalità e diciamo legate al al mondo b2c quindi ha il gpt fondamentalmente in tutto nell'ecosistema di ai responsabile no che microsoft cerca di mettere all'interno dei suoi sistemi quindi questo è un po il contesto ok e microsoft 365 copilot di fatto ha una sua prima funzionalità focale che è la microsoft 365 chat e se avete seguito un po i miei contenuti anche il live che abbiamo fatto a marzo di quest'anno in cui microsoft ci aveva annunciato copilot eccetera la business chat si chiama e la microsoft 365 chat al tempo si chiamava business chat ed è un po il punto principale dove possiamo fare le nostre attività di fatto utilizzo la chat al posto di andare a cliccare tra outlook teams word eccetera quindi questo è un po il concetto e gli esempi che state vedendo sono la domanda che io faccio la chat gli dico ciao quali sono le cose più importanti nella mia inbox stamattina e lui mi fa un recap delle informazioni e mi permette di ricercare poi alcune informazioni non solo sulla mia posta ma anche in tutto il resto dei contenuti cui io ho accesso in max 365 quindi in word nei meeting e così via avete visto prima c'erano dei risultati in alto di un'informazione che è stata recuperata appunto da contenuti aziendali ho la possibilità poi di combinare questi contenuti presenti in documenti interni all'azienda con informazioni prese dal web con tanto di referenza del sito da cui è stato preso il contenuto ok oltre a questo posso un'altra funzionalità bellissima che è questa posso chiedere in che momento del tale meeting è stato citato l'argomento che mi interessa e chi l'ha citato e qui vedi c'è scritto mario il nostro marketing manager ha menzionato il tale argomento in questo punto e ti dà pure la referenza per andare a poi vedere nella registrazione dove è stato citato quell'argomento una roba folle cioè fare domande sui contenuti di meeting a cui io non ho partecipato di fatto e così via si possono fare summary dei meeting si possono generare nuovi contenuti esattamente come fa cagpt e mettere insieme questa generazione sia con le informazioni che il modello di llm ha già metterle insieme con le informazioni che vengono dai tuoi documenti vedete qua è stato è stato chiesto a microsoft 365 chat di scrivere un blog post di 400 caratteri basato su questi due documenti quindi il documento word e il powerpoint che sono documenti a cui ho accesso perché ho accesso a un particolare sito sharepoint o un particolare gruppo teams che li contiene ok di fatto microsoft 365 chat sarà veramente il fulcro della nostra produttività o meglio della produttività di persone che la cui azienda ha deciso di acquistare microsoft 365 copilot e oltre a questo ci sarà cioè oltre alla possibilità di interagire con i dati di microsoft 365 ci sarà anche la possibilità poi di estendere questa chat adesso lo vediamo a breve e una cosa molto importante che microsoft mette in pista è il microsoft 365 copilot lab e in questo fondamentalmente è un'area un sito a cui avranno accesso solo le persone che hanno una licenza microsoft 365 copilot che permetterà di dare un aiuto di sperimentare che cosa si può fare con copilot e soprattutto di imparare magari il modo giusto di scrivere il prompt a copilot e ci saranno una marea di esempi e in più c'è la possibilità di condividere con i colleghi i prompt che hanno funzionato meglio e sì perché la skill del prompt engineering è di fatto una skill che dobbiamo un po' apprendere e soprattutto passare a tutti i colleghi senza un prompt scritto decentemente microsoft 365 copilot può risultare anche una delusione perché adesso no c'è questa c'è un po' questo diciamo questa cosa che io vedo nelle persone no sentono che le ai adesso fa passi da giganti robe allucinanti e quindi si aspettano no che scrivendo due o tre cose si hanno dei risultati già ottimi in realtà non è così perché qualsiasi modello qualsiasi strumento che usa dei modelli di ai generativa ha bisogno appunto di tante informazioni avete visto alla fine adesso cerco di fermare il video così che lo potete vedere ecco qua vado un attimo in fondo eccolo qui vedi c'è scritto proprio guarda di essere specifico per fare un prompt che funziona devi dare un contesto perché le ai si fa grandi cose ma cioè nel senso è sempre una macchina quindi devi istruirla devi dargli il prompt giusto per raggiungere i tuoi obiettivi ok questo è un po' il concetto come vi dicevo la microsoft 365 chat può essere anche estesa estesa vuol dire che oltre le funzionalità standard come per esempio in questo caso lui chiede l'esempio chiede al copilot gli dice guarda io so che la mia collega farà un viaggio però non mi ricordo qual è la sua tratta cercala in un'email che è stata condivisa questa settimana e lui te lo trova guardando sulla tua email in aggiunta gli chiede mi puoi fare lo stesso itinerario e in questo caso recupera informazioni da una fonte dati terze parti in questo caso è un servizio adesso mi ricordo ecco citric easy che viene dato insomma per prenotare i viaggi in questo caso microsoft 365 chat è stata integrata con questo plugin di questa società che ti permette scrivendo del testo di chiedere il viaggio ok con questi plugin fondamentalmente si può fare tanto cioè si può veramente allargare queste possibilità che già sono incredibili di microsoft 365 copilot allargarle per aggiungere dati aziendali interagire con servizi di terze parti anche nel mondo consumer ci sono già le principali i principali vendor che stanno facendo plugin ci sono i plugin per service now per gira addirittura per spotify insomma veramente chi più ne ha più ne mette è un modo fantastico per sfruttare al massimo una tecnologia di questo tipo ok e vedo che c'è una domanda la pubblico di ludovico che è un'ottima domanda ciao secondo te come si può migliorare la propria skill di prompt engineering e allora l'idea che mi sono fatto è che bisogna fare un minimo di formazione non è una diciamo una formazione da senso da scienziato ecco non sono cose complicate però comunque va fatta e la cosa migliore è provare fare tanti prompt provare provare questa è l'idea che mi sono fatto poi mi direte anche voi diciamo che cosa qual è la vostra idea nei commenti ok bene andiamo avanti oltre ai plugin vi volevo far vedere anche qualche altra funzionalità che è stata annunciata in copilot per outlook allora se non posso partecipare a un meeting avrò la possibilità di fare un follow follow del meeting fare follow del meeting significa che fondamentalmente il meeting rimane nel mio calendario con uno stato particolare io non potrò partecipare i partecipanti siccome io ho fatto follow riceveranno in alto un messaggio con scritto guarda c'è qualcuno che ha fatto follow ricordati di registrare perché senza registrazione senza transcript le funzionalità non vanno una volta che ho fatto il follow Microsoft Copilot mi avvisa che c'è presente il recap di questa di questo meeting e mi permette di fare delle domande sul meeting ritorniamo un attimo indietro nel video perché vi volevo spiegare una cosa molto importante punto numero uno il meeting che vedete è un meeting creato con la funzionalità di intelligent intelligent recap di Microsoft Teams premium ok quindi questo che vedete qua è Teams premium ok una licenza a parte ho fatto un video dopo lo guardiamo per per queste differenze e punto numero due con Copilot io ho la possibilità di interagire con il transcript quindi anche se non ho Teams premium tra le mie licenze posso fare delle domande sul contenuto del meeting che Copilot legge il transcript e mi risponde qui la domanda l'esempio vedi è quali sono gli action item per me perché magari sono stato citato o perché boccia un argomento che mi interessa allora gli faccio la domanda quali sono gli action item su quello specifico argomento e questo è un esempio attenzione che Teams premium che ci fa l'intelligent recap ad oggi funziona solo in inglese a breve arriveranno anche altre lingue tra cui finalmente l'italiano e invece Copilot funziona già su diverse lingue poi dopo vediamo quali ok bene e questa è una nuova funzionalità che è presente in Copilot per Outlook Copilot per Word fa cento robe chiaramente col testo ho visto rivedere il testi trasformarli in elenchi puntati in tabelle e così via però Microsoft tra le novità ci ha annunciato che ci sarà un'integrazione con Microsoft Designer che è un nuovo tool del mondo consumer è tipo Canva che permette di fare dei design semplici però ad alto effetto grafico in questo caso vedi io scrivendo delle parole con delle parole e magari aggiungendo dei miei contenuti in formato immagine vi posso chiedere guarda fammi aggiungimi il tale header al mio documento Word è basato su queste immagini su designer poi potrò aggiungere delle immagini che ho già mettere un prompt e farmi generare diciamo documenti ad hoc in questo caso delle brochure eccetera eccetera questa è la potenza che sta arrivando su Microsoft Designer Microsoft Designer che aspira a fare da competitor a Canva che è comunque un super tool per il mondo B2C per i creator per fare grafiche è veramente in modalità molto semplice qui vedete alcune funzionalità tra l'altro molto carine c'è la possibilità di vedi espandere l'immagine e lui ti genera l'immagine il pezzo dell'immagine che manda c'è la possibilità di togliere dei pezzi all'interno della foto e aggiungerne altri scrivendo scrivendoli nel prompt incredibile e lui ti riadatta tutta l'immagine con i suoi algoritmi l'intelligenza artificiale in questo caso non si usa più GPT che sono gli algoritmi di AI che intervengono quando si ha a che fare col testo ma si usa dal i da lì due o tre adesso mi ricordo quale c'è sotto designer che invece ti permettono di generare immagini ok e questa è l'integrazione che c'è con con Microsoft Designer tra Word appunto e designer e come vi dicevo il tutto è un po' sotto il cappello del dell'AI responsabile di Microsoft nel senso che vabbè Microsoft ti garantisce punto numero uno che tutti i dati stanno nel tuo contesto di sicurezza e quindi non vengono usati per fare altro cosa che invece non è garantita se usi la Bing Chat quella pubblica Bing Chat è come Chat GPT di fatto adesso ci puoi addirittura mettere immagini generare immagini eccetera eccetera ecco tutti quei dati Microsoft se li prende esattamente come faccia GPT o come fa qualsiasi altro browser quando fai una ricerca su internet fondamentalmente con Copilot e anche con altri strumenti di Microsoft 365 tra cui appunto Bing Chat Enterprise in la versione Enterprise di Bing Chat Microsoft ti garantisce che tutti i dati stanno nel tuo contesto di sicurezza e soprattutto che non vengono utilizzati per annenare i modelli di di AI generativa. Questo è un bel problema che adesso ha OpenAI perché i modelli di OpenAI sono stati generati leggendo una marea di libri per esempio e ci sono gli autori dei libri che iniziano a rivendicare il diritto di autore su quello che è il testo generato da OpenAI. Questo sono un po' quello che succede adesso diciamo nel mondo relativo all'AI. Ma la cosa allucinante secondo me infatti ne parlavo ieri con il mio carissimo amico quando c'era il calcio dei nostri bambini è che Microsoft dice va bene tu usi Microsoft 365 Copilot, usi i modelli AI che sono stati inseriti in Microsoft 365 quindi in Azure gestiti da me e Microsoft io ti copro legalmente da qualsiasi richiesta che un terzo avanza su quello che i miei algoritmi generano quindi sulle parole generate. E appunto questo mio carissimo amico mi diceva cavolo Microsoft ha le palle che fumano cioè nel senso sono dei super tosti e aveva ragione perché tu immaginati questo ragazzo lavora in una delle big four e cioè immaginati una di queste aziende che ha cause con dei diciamo milionarie immaginati diciamo farsi coprire da Microsoft su una di queste cause vuol dire che Microsoft ha la certezza al 100% che il codice generato non viola nessun diritto d'autore e questo secondo me è super. Ebbene vediamo un po' i requirement i requirement ad oggi cioè sono i requirement di licenze e tecnologici che ci sono ad oggi per il lancio molto 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 importante questa slide guardatevela bene aspetta che mi tolgo che ho visto che non si legge tutto bene allora punto numero uno il costo mi tolgo dopo quando parliamo delle lingue allora il costo costerà 29 euro utente mese finora il prezzo che sapevamo era il prezzo in dollari 30 dollari utente mese per le aziende americane adesso abbiamo anche il costo per l'europa 29 euro utente mese ovviamente questo è il costo al pubblico quindi quando chiederete copilot al vostro account Microsoft preferito chiaramente vi farà il prezzo che che meglio crede e gli clienti devono avere Microsoft 365 e 3 oppure e 5 per questo lancio non ci sono alternative e soprattutto devono avere una devono acquistare decidere di acquistare una quantità minima di 300 licenze ok che si parla circa di un 100 capa all'anno più o meno di di investimento e perché così come vedete diciamo non ci sono licenze small business quindi le business premium le business standard o le business basic non ci sono e comunque anche se un'azienda ha le 3 e le 5 attenzione le Microsoft 365 e 3 e 5 ok non le office 365 e 3 ok se hai comunque queste licenze 6 sotto i 300 utenti comunque non puoi acquistare ok c'è una quantità minima questo è diciamo una bella fregatura come dire ci hanno fatto una super comunicazione no dicono cioè ci hanno detto dal primo novembre entra arriva copilot eccetera vai a vedere non puoi acquistare e però ci sono dei motivi punto numero uno questo è diciamo un lancio che Microsoft ha dichiarato essere appunto per il mondo enterprise e quindi vabbè predichiarato ok prima o poi arriverà anche per il mondo per il mondo small business e non preoccupiamoci e punto numero due sotto Microsoft 365 copilot ci sono n algoritmi no abbiamo parlato di gpt abbiamo parlato di dalli e così via gpt adesso è utilizzabile la versione 3.5 all'interno di azure che è un ottimo un super modello di ai ma c'è la versione 4 che è ancora meglio e copilot sotto di sé sotto il sedere ha proprio la gpt4 gpt4 è un modello di ai che è super performante però necessita anche di tanta potenza di calcolo e di fatto Microsoft adesso dice se io apro a tutti copilot con gpt4 con la potenza di calcolo che necessita adesso per come sono messo per il data center che ho non riescirò a dare le performance che un servizio di questo tipo ha bisogno quindi hanno un problema proprio di performance di calcolo e lo stanno pian piano risolvendo aggiungendo data center raggiungendo macchina destra manca e questo spiega l'entry point di 300 licenze loro si concentrano su pochi clienti che decidono di investire sul 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 prodotto e soprattutto si concentrano per ora appunto su clienti che hanno già investito su Microsoft 365 con delle licenze più di alto livello ad oggi appunto non ci sono non c'è copilot per il mondo edu però arriverà le office 365 3 comunque non sono non sono previste come come requisito per cui se avete office 365 3 dovete valutare di fare un upgrade a Microsoft 365 3 ok e neanche con la versione ms3 non va bene poi le lingue come vi dicevo ci sono lingue che già adesso sono confermate l'inglese nelle varie declinazioni spagnolo giapponese francese tedesco portoghese il brasiliano cinese semplificato e anche l'italiano in questo caso siamo stati tenuti all'interno in più nella prima parte dell'anno 2024 ci saranno 17 lingue in più che saranno gestite ok questi che vedete invece sono i requirement dal punto di vista tecnico ok prima abbiamo visto le licenze e poi adesso guardiamo la parte tecnica allora nella parte tecnica Microsoft ci dice che ci vuole Microsoft 365 3 e 5 l'avevamo visto anche prima ma va bene anche business premium e business standard tu dici come scusa mi hai detto prima che le small business non c'erano no è vero che te l'ho detto non c'erano in questo lancio ok in questa prima versione mentre invece Microsoft ci dice con questa cosa con questo requirement che copilot per il mondo mondo small business arriverà tra l'altro arriverà anche in csp cioè vuol dire è per la rivendita tramite noi partner noi siamo csp rivendiamo le licenze ai nostri clienti e tra un po potremo rivendere anche Microsoft 365 copilot e per cui queste sono i requisiti tecnici e gli utenti devono essere su azure active directory per forza e devono avere a one drive attivo punto numero due se vogliono usare copilot in outlook devo usare per forza questo è molto importante o il nuovo outlook oppure outlook sul web quindi è la versione quella della tua posta che poi a cui puoi accedere tramite il browser ok e perché qui e quindi è escluso l'outlook attuale l'outlook legacy lasciami dire e perché questo perché è outlook sta andando verso una nuova versione un nuovo client eh che di fatto è uguale all'esperienza web io sono anni che dico usate outlook web perché funziona meglio bla 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 spero che eh gran parte di voi mi avete seguito perché di fatto adesso stiamo andando stiamo convergendo su un'interfaccia che è la stessa tra outlook client e outlook web ed è la stessa di outlook web quindi copilot funzionerà solo su queste due non su outlook legacy poi su teams devo avere teams sul desktop e in più non ci sarà quindi mobile per ora e in più devo abilitare le trascrizioni è vero che di default sono abilitate però ho visto tenant che le disabilitano per cui ricordatevi di abilitarle se voglio usare copilot in loop devo abilitare loop ma la cosa più importante e qui mi tolgo che così la leggete bene è che di fatto copilot ci permette un'esperienza di lavoro eh cross applicazione cioè per esempio riesco a trasformare un file word in un file powerpoint eh con tanto di layout immagini tutto quanto ecco queste esperienze funzionano bene se io ho i dati in microsoft 365 ok quindi vuol dire che punto numero uno i file su cui lavoro devono essere su one drive oppure su teams che sotto a sharepoint va bene anche metterli direttamente su sharepoint chiaramente in più ehm se ci sono diciamo eh ancora delle aziende che hanno la posta on prem copilot sulla vostra posta non funzionerà quindi dovete portarla su exchange online e così via per quanto riguarda i meeting fondamentalmente eh non ci aspettiamo che copilot funzionerà con meeting fatti su zoom per esempio ok cose di questo tipo bene questi sono i requirement ok ehm benissimo il costo l'abbiamo capito copilot si mette di fianco ad altri prodotti di microsoft legati all'eigenerativa e si tratta fondamentalmente di bing chat quindi la parte eh consumer personale un chat gpt però all'interno di bing e si parla poi di bing chat enterprise che eh di fatto è il chat gpt però protetto dalla sicurezza aziendale a cui io accedo semplicemente con il mio account e che mi garantisce come vedete la commercial data protection cosa significa ehm fondamentalmente tutti i dati che io vado a mettere nella chat di chat bing enterprise microsoft ti dice che non li salva non li usa per trenare i modelli e rimangono nel tuo contesto di sicurezza ok e mentre invece copilot avrà tutto cioè avrà addirittura la compliance eh di microsoft 365 interagisce con i contenuti di microsoft 365 tramite microsoft graph e in più ci permette di lavorare con le eh le applicazioni di microsoft 365 ok allora 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 vedo che ci sono un po' di domande le 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 faccio apparire che così eh rispondiamo anche oggi siamo in tantissimo ho visto prima un picco di 142 persone grazie mille per essere qua tutti allora domanda numero uno sarà registrata questa diretta la seguire la seguire la seguire offline per motivi lavorativi assolutamente sì la ritrovi nel mio canale youtube basta che scrivi giuseppe marchi trovi il canale e trovi gli eventi live passati ehm riguardo outlook buongiorno purtroppo mancano ancora funzionalità su outlook web è vero ne manco qualcuna eh però secondo me non tante e pian piano microsoft visto che sta convergendo su una ui unica eh secondo me le andrà a coprire eh di fatto io lo uso da almeno 4-5 anni outlook web e non non ho pentimenti eh secondo me le funzionalità che mancano sono diciamo talmente poche talmente di nicchia che boh se ne può fare anche a meno però questo è un punto di vista molto soggettivo e Enrico certo che questa cosa delle 300 licenze è una bella botta ho l'impressione che dovremmo attendere per il momento e sì 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 eh attendere 100% dobbiamo attendere eh perché come vi dicevo prima a causa di eh necessità di calcolo Microsoft ha deciso di concentrarsi sui clienti che vogliono veramente investire da subito sul prodotto poi non è che non arriverà eh come vi dicevo arriverà anche il copilot per small business con meno di 300 utenti però comunque dobbiamo aspettare un pochino e ok niente più domande un'altra cosa che Microsoft ha annunciato è la disponibilità anche di avere copilot in Windows quindi su Windows 11 ci sarà la possibilità di avere una chat un pannellino sulla destra con esattamente la stessa eh user experience che abbiamo che avremo su copilot su team su word su powerpoint eccetera eccetera ce l'avremo anche su Windows e in questo caso però Windows copilot mi darà la possibilità di eh lanciare azioni su Windows e quindi risparmiare tutto quel tempo che di solito eh spreco per cliccare nel pannello di controllo eh cercare le cose che non mi ricordo come si fanno e così via l'esempio che hanno fatto nel video è stato fammi il pairing delle mie nuove QF Bluetooth scritto in linguaggio naturale e lui l'ha fatto senza capito far sì che l'utente vada sul pannello di controllo devices cerca il device fa il pairing metti il numerino tutto automatico ok molto carino questo e Windows copilot si posiziona in questo elenco di di prodotti qua esattamente come la Bing chat nel senso che Windows copilot ha compresa la Bing chat però attenzione che tutte le informazioni che mettiamo di fatto poi è come fare una ricerca sul web quindi vengono carpite da Microsoft e Microsoft di fatto ci fa quel che vuole e mentre invece se volete la protezione dovete passare su Bing chat Enterprise ok bene e un altro paio di domande allora allora Paola dice io lavoro in un'azienda con più di 300 utenti ma mi sembra che il costo sia aggiuntivo di 30 euro d'utente corretto mi sono connesso solo ora è potenzialmente disponibile senza licenza web allora esatto è corretto e il costo è proprio 29 euro per ogni utente per ogni mese e almeno per 300 utenti quindi si tratta di un diciamo di un di un effort di circa 9 mila euro al mese più o meno ok 100 mila euro all'anno di fatto e ancora non c'è non è disponibile non lo puoi aggiungere neanche lo puoi acquistare da solo perché in effetti un punto di cui non abbiamo parlato nella slide prima è che per fare l'acquisto devi per forza chiedere al tuo account di Microsoft ancora non si può fare l'acquisto in autonomia neanche tramite un rivenditore ok altra domanda Outlook per il web non supporta la condivisione di cartelle di contatti molti clienti che seguono hanno quello come requisito tecnico e come requisito critico non lo sapevo è una cosa che io non uso purtroppo spero che che lo aggiungano dai in questo caso dai un'occhiata alla roadmap di Microsoft 365 che è sempre aggiornata e vedi un po' se se c'è questa questa funzionalità ok bene ritorniamo un po' alle nostre slide e tra l'altro di queste su queste informazioni fammi vedere se ho ancora slide ah no 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 poi poi dopo vi dico benissimo ecco adesso quindi c'è la domanda come faccio io a scegliere tra Copilot Microsoft 365, tra Bing Chat Enterprise, tra Teams Premium oppure tra Bing Chat e così via e io ho fatto un piccolo schemino ok basta fare qualche semplice domanda per capire un po' in base alle tue necessità qual è lo strumento giusto e la prima domanda da farsi è ho bisogno diciamo di un aiuto nella mia produttività quotidiana con le ai generativa però su contenuti e documenti aziendali questa è la domanda se sì la risposta allora Copilot è l'unica scelta perché Copilot è l'unico che mi permette di interagire con Outlook con PowerPoint con Word per i miei documenti e usare le ai generativa sul contenuto aziendale rimanendo nel contesto di sicurezza se la domanda è no allora ho diciamo un'altra domanda che mi posso fare per capire bene qual è la mia necessità cioè ho bisogno di un aiuto da un sistema stile chat GPT su informazioni che però sono sempre aziendali e qui l'esempio è devo scrivere un post su Vive Engage oppure devo mandare una comunicazione interna a un gruppo di persone e voglio farmi aiutare da chat GPT a scrivere il mio messaggio però con un tono più amichevole eccetera che sono cose che chat GPT fa in questo caso se usate chat GPT o Bing chat quello sul web consumer queste informazioni vanno a Microsoft OpenAI ok e quindi se la risposta è sì in questo caso devo portare i miei utenti su Bing chat Enterprise va bene se invece la risposta è no va bene appunto Copilot in Windows oppure Bing chat online oppure anche c'è GPT se volete chiaramente no nessun nessun vincolo ok questo è un po' lo schemino e vedo che c'è una domanda che la faccio vedere perché mi aiuta a introdurre il la prossima slide cioè qual è l'approccio che consiglia di un'azienda per l'adozione di Copilot? ottima domanda questa Enrico grazie mille e in generale diciamo per essere preparati a Copilot bisogna parlare di questi punti ok punto numero uno migrazione come vi dicevo prima i dati devono stare su Microsoft 365 se non sono su Microsoft 365 Copilot non li può raggiungere punto numero due sicurezza questo stateci bene attenti perché cosa succede che Microsoft 365 Copilot è basato su un nuovo strumento che sta sotto il sedere di Microsoft 365 che si chiama semantic index questo semantic index fondamentalmente indicizza tutti i contenuti che ci sono in Microsoft 365 da Teams, SharePoint, OneDrive e Exchange Online quindi Outlook la posta li indicizza e li fa diventare dei token è un particolare tipo di formato che un modello di AI generativa capisce bene e su cui riesce a fare bene delle ricerche ok vista a grandi linee quindi che cosa succede che se i vostri contenuti non hanno una corretta configurazione di permessi Copilot li usa per dare delle risposte ok quindi facciamo l'esempio c'è un gruppo Teams che è stato creato inadvertitamente dalla segretaria dell'amministratore delegato come un gruppo pubblico perché lei non ci ha fatto caso in fase di creazione l'ha fatto pubblico e di fatto un gruppo pubblico può essere acceduto da tutti non l'ha fatto con consapevolezza in questo gruppo nel tempo ci sono finiti la qualunque documenti di ogni tipo tra cui appunto il file Excel con gli importi delle buste paga dell'amministratore delegato di fatto chiunque con Microsoft 365 Copilot può fare la domanda quanto prende l'amministratore delegato e ricevere una risposta da quel documento perché in un gruppo Teams pubblico di fatto l'utente anche se non lo sapeva c'è accesso e quindi con Copilot c'è più rischio di scoprire questi punti in cui le persone hanno accesso senza saperlo ok mentre prima era un gruppo tra tanti che io non vedevo a cui non accedevo eccetera adesso c'è questa possibilità quindi state attentissimi dovete fare assolutamente degli assessment per verificare se le impostazioni di permessi di accesso ai dati sono quelle giuste oppure no e questo si fa facendo appunto degli assessment noi è un servizio che diamo ai nostri clienti punto numero tre le persone, scegliete le persone giuste nel senso che una persona che usa tanto PowerPoint, usa tanto Word, fa tanti meeting, fa tanti documenti eccetera è la persona giusta un first line worker che non ha il PC chiaramente non serve che li diamo Copilot questo è scontato punto numero quattro adozione l'adozione qui assolutamente è necessario come dicevo all'inizio rispondendo a una delle vostre domande che venga fatto un piano di adoption cioè fatto da training fatto da programmi di championship con persone che prendono prima degli altri la skill provano prova in autonomia e poi aiutano gli altri a utilizzare il Copilot perché c'è questa skill di prompt engineering che va acquisita è una skill a cui non siamo abituati è una skill che finora non abbiamo mai utilizzato perché finora le ricerche le abbiamo fatte keyword based cioè io scrivo una keyword busta paga scrivo e i sistemi di ricerca che abbiamo utilizzato finora mi hanno ritornato sempre tutti i contenuti che contenevano quella keyword adesso se io faccio una domanda a Copilot di due parole avrò un risultato pessimo meno è pieno di dettagli il prompt e meno diciamo più basso è il risultato che io ottengo da un modello di AI di questo tipo e questo vale anche in Copilot ma vale anche su CiaGPT è la stessa cosa quindi devo abituare le persone a cambiare un po' modo di ricercare informazioni ok soprattutto le devo anche abituare al concetto della history su Microsoft 365 chat non so se l'avete visto prima ma di fatto ogni volta che faccio una domanda lui mi dice guarda hai fatto uno di 30 domande questo perché Microsoft 365 chat si ricorda la storia delle ultime vostre 30 domande e questa è utile poi per rispondere alla prossima domanda per cui io posso dire che cosa è successo oggi in The Forsyth e lui mi fa un recap di tutti i file che sono stati modificati a cui io ho accesso e da chi e al che posso scrivere mi fai un recap della presentazione che è stata aggiornata senza dire qual è e lui capisce dalla storia che si tratta di una presentazione che è stato il risultato della domanda prima e anche questo diciamo è una skill di prompt engineering che va insegnata alle persone e noi consigliamo di dare copilot inizialmente anche se dovete comprare 300 utenze darla a poche utenze a poche persone così che si impratichiscono e riescono appunto a capire come si usa bene questo strumento per poi aiutare gli altri ok e questo è un po' quanto va bene spero Enrico di averti risposto benissimo andiamo avanti e basta perché ho finito le slide però vi volevo far vedere appunto punto numero uno che sul mio canale YouTube trovate un video che insomma di due giorni fa che sta andando molto bene in cui io spiego le differenze tra Teams Premium Bing Chat Enterprise e Microsoft 365 Copilot sono contenuti simili a quelli che abbiamo visto oggi però con l'aggiunta di Teams Premium Teams Premium è un'altra di queste licenze che sono già acquistabili e in questo caso anche dal mondo small business che ti permettono di avere le AI all'interno dei meeting quindi ti fa l'intelligent recap e ti dice in che punto sei entrato in che punto sei uscito della registrazione così riesci a vedere solo le cose che ti sei perso e ti dice quando hanno parlato le persone insomma ci sono un po' di funzionalità io ho fatto sia un video per capire queste differenze sia un video con le principali funzionalità di Teams Premium dateci un'occhiata perché così capite tutto quanto punto numero due sempre legato a Microsoft 365 Copilot e alla partnership di Microsoft con OpenAI vi volevo dire che proprio ieri c'è stata la anzi no ieri l'altro c'è stata la conferenza per gli sviluppatori di OpenAI la prima non ne avevano mai fatte prima a cui ha partecipato la sorpresa sorpresone anche Satya Nadella che ha fatto una chiacchierata con Sam Altan sul palco sul futuro appunto di questa partnership super profittevole che porta l'AI diciamo in tutte le aziende e fondamentalmente qua ci hanno detto che finalmente sta arrivando anche il GPT 4 Turbo all'interno di Azure OpenAI Service che è questo servizio su cui si basa anche Microsoft 365 Copilot che ci permette di appunto interagire con il linguaggio naturale nelle nostre però applicazioni personalizzate ok noi stiamo usando adesso tanto questi servizi per fare per aggiungere la componente di linguaggio naturale a applicazioni che magari avevamo già sviluppato oppure stiamo facendo proprio applicazioni nuove e il GPT 4 devo dire che è un cambio di marcia nonostante il GPT 3.5 funziona benissimo il GPT 4 è tutta altra cosa quindi ecco ve lo volevo dire perché sappiate che oltre all'utilizzo del Copilot su Microsoft 365 e degli anni Copilot che arriveranno perché arriverà un Copilot per la Power Platform un Copilot per Azure Security un Copilot per Azure un Copilot per Microsoft Viva anche c'è anche questa possibilità già da adesso di creare applicazioni personalizzate che usano questi modelli di intelligenza artificiale ok e noi lo stiamo già facendo una è il micro learning noi abbiamo fatto un'applicazione di micro learning che permette di trasformare in automatico un documento in un corso di formazione sai i documenti le procedure di 50 rotte pagine che di fatto nessuno legge più adesso vengono trasformate in un corso con un contenuto diciamo più semplice da assimilare se volete informazioni ci iscrivete su internet AI e ci diamo un'occhiata insieme vedo un'altra domanda allora Ludovico dice sai anche fare una comparazione tra questi strumenti e il nuovo rilascio dei GTPS lasciati da poco direttamente da OpenAI farai un video e adesso così su dei piedi no non la so fare anche perché ci vuole un po' di tempo sono argomenti insomma che portano via un po' di tempo che oggi non andiamo magari magari ci faccio un bel video magari ci faccio un bel video grazie intanto Ludovico dell'informazione bene avrei finito di parlare di Microsoft 365 Copilot se non avete altre domande ho preparato anche qualche piccolo contenuto riguardo le novità di Microsoft Viva perché in questo ottobre Microsoft Viva ha ricevuto veramente veramente tante tante novità e secondo me valeva la pena darci un'occhiata ci metto 5-6 minuti non di più e direi di andare subito fondamentalmente c'è un blog post che ci dice appunto che cosa è arrivato a ottobre 2023 le cose più importanti secondo me sono uno una nuova landing experience quindi una nuova home page di fatto per Viva Connections Viva Connections è la terza home page che riceve questa si vede che non erano tanto d'accordo di Microsoft fondamentalmente in questa nuova home page vediamo gli annunci qua su in alto vediamo le comunicazioni principali vediamo la famosa dashboard che possiamo configurare come vogliamo e grazie a Dio hanno modificato un po' sia l'accesso a Viva in generale non è più qua su in alto ma è stato messo in basso e soprattutto hanno rivisto l'accesso alla parte di risorse e link li hanno fatti diciamo molto più carini dal punto di vista grafico e soprattutto non rispecchiano più quella che era la struttura chiediamo la global navigation della intranet perché in questa pagina in effetti non è che serviva tanto quella navigazione lì ma quanto dei link rapidi per accedere alle informazioni più utili all'interno della nostra intranet e attenzione che la global navigation non scompare quindi cliccando qua nell'iconcina rimane sempre quella per potermi spostare all'interno della mia intranet e andiamo avanti sono gli annunci quelli l'abbiamo già visti hanno aggiunto il numero di utenti che fanno delle interazioni all'interno di analytics nelle pagine di SharePoint Online di fatto e grazie grazie eccomi qua di nuovo scusatemi ma ho capito che c'è stato un bel un bel problema sullo streaming purtroppo mi è cresciato Streamyav che è il servizio che uso per fare lo streaming adesso dovrebbe essere tutto a posto visto che abbiamo perso una decina di persone mi dispiace comunque c'è la registrazione io vado avanti con il contenuto grazie che è rimasto e dicevo quindi su via connections e su sharepoint online hanno aggiunto gli engaged users che sono fondamentalmente le persone che fanno un like uno share o un commento all'interno delle pagine della nostra internet molto carino grazie grazie per i feedback Massimo adesso va tutto bene se si ce l'ho fatta ritornare in pista sono arrivate delle nuove card per la dashboard di via connections la news card secondo me è la migliore in assoluto che potevano fare perché quella di prima faceva un po' schifo ma soprattutto hanno aggiunto il supporto per Sway Forms e Power Apps grazie a Dio perché questo mancava ma soprattutto hanno messo la people search people search è come un po' la rubrica posso fare la ricerca direttamente dalla home page di via connections questo è molto utile dal mio punto di vista poi ho una cosa molto molto utile per Viva c'è la possibilità di aggiungere i dati HR che vengono messi insieme ai dati che sono già su Microsoft 365 questa è una cosa che abbiamo sempre diciamo sviluppato per i nostri clienti il fatto di leggere i dati dal sistema HR di terze parti success factor di turno o insomma Talenzia sono tutti quelli che ci sono e portare questi dati all'interno di Active Directory o comunque Microsoft 365 per far sì che le persone vengano collegate diciamo messe all'interno del dipartimento giusto con il job title giusto e così via adesso sarà possibile farlo in autonomia con un import un import con un file Excel secondo me questa è una bella è una bella una bella novità perché evita insomma un sacco di mal di testa di sviluppo e soprattutto permette potenzialmente alle HR di essere completamente autonome queste informazioni servono proprio vedi aumentare la profile card che è la card che appare in Outlook in Teams nella intranet ogni volta che si fa riferimento a una singola persona è arrivato sono arrivate un po' di novità anche su Viva Engage stanno arrivando gli articoli che sono un nuovo tipo di post che si può fare su Viva Engage e questo è diciamo a supporto di le funzionalità che sono di Viva Amplify di fatto che comunque viene annunciato l'articolo ha vedi un'interfaccia molto simile alla pagina su SharePoint però messa scusate messa all'interno del social network aziendale finalmente arrivano gli analytics analytics disponibili per rete audience analytics personali campagne answers e answer che sono altri degli strumenti che ci sono in Viva Engage e queste sono disponibili solo per chi ha la licenza Viva Engage quella a pagamento 1,67 euro 30 mese se non mi sbaglio oppure per chi ha la Viva Suite cioè comprende tutte le licenze all'interno di tutta la piattaforma Viva ci sono diversi analytics molto carini c'è il sentimento c'è le community popolari con tutti i dati e in più c'è pure l'advanced conversation molto carina insomma sono insight veramente su qualsiasi argomento in più finalmente arriveranno i post in draft cioè io posso scrivere un post non lo devo pubblicare per forza subito ma lo posso lasciare lì per domani domani lo finisco e poi soprattutto i post schedulati cioè scrivo un post adesso e viene pubblicato domani mattina molto molto utile vado un po' più avanti perché ci sono novità anche per Viva Goals molto carino il fatto chiaramente di avere copilot in Viva Goals secondo me questo sarà un bel improvement perché su Viva Goals la parte difficile è scrivere gli OKR soprattutto tenerli aggiornati con delle descrizioni decenti all'interno dei check-in e sarà possibile farsi aiutare da copilot in Goals per queste due cose in più c'è la possibilità di personalizzare un po' la terminologia non per forza diciamo le aziende devono chiamare il risultato dall'aggiungere Key Result che è proprio il nome che viene dal framework OKR ma lo possiamo decidere di chiamare outcome metrica risultato sarà personalizzabile molto utile ma soprattutto molto utile l'export in PowerPoint cioè posso recuperare dei miei obiettivi e dei risultati e trasformarli in delle slide in automatico molto molto utile è arrivato Viva Amplify ho fatto una guida eccola qua che in cui diciamo vedo gran parte dei dettagli di Viva Amplify vediamo come funziona quali sono le sue caratteristiche principali quindi non la perdete non ci metto più tanto tempo in più finalmente sta arrivando una nuova home page proprio per Viva e qui sono contento perché staccano la home page di Viva da Viva Connections prima Viva Connections aveva l'accezione di fare la home page di Viva in questo caso finalmente ci sarà una home page ad hoc con tanto di accesso le applicazioni anche da Microsoft 365.com sia dal menu applicazioni sia dal menu ricerca lo cito perché può sembrare normale che ci siano queste cose ma finora non c'erano e quindi gli entry point a queste applicazioni di fatto erano solo le applicazioni di Teams che potevamo andare a mettere sulla sinistra nella navigazione di Teams ok e in più sta arrivando Skills Skills è un improvement a Viva e a Viva Topics e a Viva Learning per permettere alle risorse umane di gestire l'app skilling dei colleghi soprattutto per far sì che le persone riescano a trovare gli esperti su particolari skill o argomenti all'interno dell'azienda in maniera più semplice adesso non andiamo nel dettaglio anche di questo magari faremo un video nei prossimi periodi così vediamo il dettaglio però è stato annunciato ancora non c'è niente disponibile relativamente a Skills però c'è un bel post fatto da Microsoft proprio in quest'ottobre con tanto di video che vi fa capire come queste esperienze che si trovano in Viva e in 365 in generale riescono assieme appunto a un grafo di skill che viene anche da LinkedIn riescono a far sì di assegnare queste skill alle persone le persone possono anche assegnarsene e fare diciamo dei percorsi sia di apprendimento sia di ricerca delle informazioni basate appunto sulle skill molto molto utile ultima informazione importantissima per Viva Engage sappiate che hanno spostato il cambio del dominio che doveva essere entro la fine di quest'anno l'hanno spostato a gennaio il cambio di dominio di Viva Engage cioè non sarà più Yammer.com ma sarà un altro dominio questo è importante perché dovete aggiornare diciamo i punti nel vostro digital workplace in cui usate questi domini chiaramente Microsoft ti garantisce ora il direct questa è la cosa importante però chiaramente se voi avete una intranet dove c'è scritto apri qui per andare in Viva Engage con l'indirizzo Yammer.com è probabile che quell'indirizzo non vada più e quindi attenzione a non dare esperienze ai vostri utenti diciamo che non vanno bene benissimo io con questo ho finito e vi volevo far vedere quindi quelli che sono un po' i prossimi appuntamenti che abbiamo o insieme o anche con altre persone punto numero uno vi volevo ricordare che gli appuntamenti come questo quindi i webinar gratuiti che facciamo ogni primo mercoledì del mese possono avere degli argomenti che sono chiesti anche da voi nel tempo nei mesi passati abbiamo parlato di Viva Learning abbiamo parlato di Viva Topics abbiamo parlato di Adoption Microsoft 365 abbiamo visto Power Virtual Legend Power Automate tutti argomenti chiesti dalla community qui basta che scannerizzate il QR code che state vedendo adesso e potete richiedere l'argomento che preferite molto molto utile io poi li valuto chiaramente non mi chiedete cose diciamo basic perché poi non sarebbero interessanti per nessuno ma cerchiamo di chiedere argomenti che sono un po' più nuovi sulle novità di Microsoft 365 questi argomenti verranno trattati nei prossimi due webinar il prossimo 6 dicembre e qui vedremo le novità di Ignite Ignite è un evento importantissimo che Microsoft fa adesso a breve il 15 di novembre se non mi sbaglio in cui ci annunceranno tantissime novità e chiaramente noi faremo il webinar subito dopo per vederle insieme e poi ci rivediamo il 7 febbraio gennaio lo saltiamo perché sarebbe troppo presto secondo me non avremo nient'altro da dirci il 7 febbraio e qui il solito appuntamento con le novità di Microsoft 365 più la possibilità di fare domande più gli argomenti che vorrete oltre a questo vi ricordo che il 16 novembre ci sarà la Cloud Conference italiana a Treviso io sarò uno degli speaker ho due sessioni su Microsoft Viva e in più c'è la sessione per presentare il nostro tool fatto con lei generativa per il micro learning che vi ho accenato prima i prezzi del biglietto sono veramente molto bassi per una conferenza di questo tipo ci sono speaker nazionali bravissimi che parlano di tecnologie Cloud per lo più Microsoft vi consiglio di dare un'occhiata all'agenda punto numero 2 il 28 29 30 novembre saremo invece a Milano con la VPC VPC conferenza storica italiana che parla di tecnologie Microsoft in questo caso io ho due due sessioni una sua appunto Microsoft Viva faremo una panoramica e l'altra su Microsoft 365 Copilot per vedere insieme come prepararsi al meglio all'arrivo di questa super novità per essere avvisati di questi eventi e di tutti gli eventi gratuiti che facciamo ogni primo mercoledì del mese basta andare su intranet.ai slash join vi scrivete una newsletter gratuita non è spam vi scriviamo solo quando c'è il webinar per ricordarvi appunto della possibilità di venire a partecipare come dicevo tutte le registrazioni degli eventi live sono presenti nel mio canale youtube quindi potete andarci a dare un'occhiata questi che vedete sono i nostri contatti ci trovate su internet.ai con le nostre soluzioni pronte all'uso per arricchire Microsoft 365 su deforsight.com in cui sponsorizziamo le nostre skill da system integrator quindi sviluppo di applicazioni basate su Microsoft 365 e adesso anche sull'e-generativa office365italia.com per la parte di formazione e il mio blog personale grazie ancora per essere rimasti qua fino adesso e buon pranzo a tutti ciao 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 ciao